Allora, vediamo i fotovoltaici. In questo caso vedete i pannelli, i moduli, le scatole di interconnessione. Vedete che i pannelli hanno tutta una loro struttura, diciamo, ricorrente, quindi non hanno problematiche, non si vedono problemi di sorta. Potete andarci anche da dietro a vedere se ci sono anomalie, quindi queste scatole, che sono queste qui viste da davanti, possono essere controllate da dietro per vedere se ci sono problematiche sulle connessioni. I fotovoltaici sono molto veloci, ecco questi con i droni funzionano bene. Se qualcuno di voi ha intenzionato a fare fotovoltaici col drone, si doti di un bravo pilota, perché quando avete mille pannelli è facile, quando ne avete diecimila, poi dopo un po' si... vi siete persi. Quindi se il pilota non è bravo a dirvi dove siete, quando poi fate il report, il cliente vi dice è il 792esimo pannello al terza fila o no? E voi lo guardate inebettiti dicendo, eh? Quindi, fare le cose con i droni noi le facciamo, ma vi assicuro che è meno facile di come ve la raccontano. Molto meno facile. Questo è un problema di scarsialleggiamento, eh? Non ha un difetto il pannello, è che se ci metti l'ombra, le celle dopo un po' i diodi si interrompono. oppure in questo caso un mismatch. Un mismatch vuol dire che praticamente non c'è abbastanza soleggiamento, quindi le celle cominciano a rispondere in maniera diversa. Quelle più ombreggiate cominciano a diventare un carico, quindi si scaldano, quelle dove c'è il sole producono un po' di più, e a seconda dei pannelli o intervengono i diodi di bypass, oppure il pannello comincia a diventare tipo mosaico. Può capitare se non c'è abbastanza luce. In questo caso andava in ombra perché ci sono gli alberi. L'hanno montato e ci cascano gli alberi sopra. Ecco, ci vuole esperienza. Allora, questo, questa immagine l'ho fatta io, non è fatta col drone, è fatta da una piattaforma. Se voi lavorate con la macchina in automatico vedete questa. E basta. In realtà, vedete che questa stringa è più calda, c'è l'inverter connesso male. Ma, quindi, come funziona il fotovoltaico? Quando il fotovoltaico funziona produce, quindi trasforma la luce non in calore ma in corrente. Se invece l'impianto fotovoltaico non produce, la luce scalda i pannelli. E l'energia resta tutta lì. Quindi, se l'impianto, l'inverter non funziona bene, la stringa intera collegata con l'inverter si scalda. Ok? Se però io, vedete, questi qui sono 7 gradi tra questo punto e questo punto. Questa è molto calda, circa un'ottantina di gradi. Questo è il pannello qui da cambiare. È un hotspot. Ma, se voi lasciate in automatico, questo difetto non lo vedete. Vedete solo la cella calda. Quindi, l'operatore termografico serio, tutte le immagini se le guarda una per una. Quindi, quando qualcuno vi dice, ma guarda che bisogna una macchina più performante, non è che ve la vuole vendere più costosa. È chiaro che qualcuno anche. Ma, se dovete fare cose grandi, ci vuole il pennello grande. Perché poi, dovete guardarvele tutte. E se avete una macchina che, che ne so, ha la lente stretta e non avete il grand'angolo, ok? Il grand'angolo è un 45, la lente normale è un 25. Per avere le stesse a vista dovete fare quattro foto. Ma poi vuol dire che dovete guardarne il quadro. Per avere le stesse a vista dovete fare quattro foto. Grazie. Grazie.